Musica Bella a tutti Orchetti, si è una Orcuverde In questo video volevo informarvi che tutti i giocatori di Fortnite avranno ben 1500 V-Bucks gratis Anzi, di più Per chi ancora non lo sapesse, Epic Games ogni tanto e diciamo anche spesso e volentieri, soprattutto nel periodo delle feste, mette gratuitamente due lama plus nella modalità salva il mondo Ma addirittura oggi che è la vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre 2021, Epic Games ha rilasciato addirittura il lama smorgasbord gratuito Lama leggendario che costerebbe in realtà 1500 V-Bucks Anche oggi Epic Games ha messo due lama plus da riscattare gratuitamente anziché dover spendere 100 V-Bucks Per cui nella giornata di oggi, prima che si ripristina il negozio, potete aprire diversi lama per un totale di 1700 V-Bucks completamente gratis Senza spendere neanche un V-Bucks Senza spendere neanche un V-Bucks Che è davvero tanta roba in quanto Già solamente i lama plus danno un bel po' di ricompense utili Se soprattutto siete di potenza bassa Ma soprattutto il lama quello leggendario che dà ottime ricompense Tra l'altro ricompense che potete anche scegliere Tra cui 1500 biglietti fiocco di neve Che servono per aprire il lama delle vacanze Che costano ben 500 biglietti fiocco di neve Anche questi lama danno belle ricompense Soprattutto se siete di potenza bassa Per cui approfittatene oggi che è la vigilia di Natale Per aprire questi lama gratuitamente Al valore di ben 1700 V-Bucks Fate sapere a tutti i vostri amici che possiedono salva il mondo di questa notizia Mi raccomando condivideteli il video Codice Orc Over The Gamer 12 nello shop di Fortnite Se non avete ancora fatto mi raccomando fatelo Che mi aiuta davvero tantissimo Purtroppo oggi non c'è nessuna missione che dà V-Bucks Come ricompensa nella modalità salva il mondo Vi faccio vedere velocemente lo shop della modalità battaglia reale Se inserite il codice Orc Over The Gamer 12 E mi inviate uno screen su Instagram Su Instagram tra l'altro Orc Over The Gamer Tutto scritto piccolo e tutto attaccato Che potete vederlo scritto Come anche aprire direttamente il link nella descrizione Vi metterò nelle storie taggando il vostro nome Oltre ad ottenere vantaggi E niente Orchetti Noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.